Dal 30 aprile alle 2 maggio torna a Città di Castello Holy Wine Festival, il salone dei giovani produttori under 40 delle piccole cantine. Confermata la location del giardino di Palazzo Vitelli a Sant'Egidio per un'edizione ricca di novità, come le due aree speciali dedicate allo champagne e ai vini da merenda. Ormai è un evento di livello nazionale dove quest'anno saranno presenti a Città di Castello 151 cantine. Abbiamo fatto un po' uno strappo alla regola perché il numero di richieste era enorme e soprattutto perché lo scorso anno abbiamo avuto la possibilità di ospitarne solamente 80. Nel cuore cittadino arriverà anche un tocco d'oltrealpe con il mercatino regionale francese che farà tappa per la prima volta in piazza Matteotti. Inoltre sono varie le convenzioni stipulate con alcuni musei di Città di Castello e con il Consorzio Procentro per sottolineare il forte legame di Holy Wine con il territorio. È per noi, per Città di Castello, un po' la partenza, anzi la ripartenza della stagione che apre verso la stagione estiva e apriamo ovviamente con il botto, con una manifestazione che dà lustro alla nostra città ma che dà anche valore aggiunto perché ha un taglio appunto che guarda le realtà produttive che per il nostro territorio, ricordo, il mondo dell'agricoltura è un elemento trainante e quindi dà anche un ulteriore impulso in questo senso. Rinnovata anche la partecipazione dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli che sarà presente in fiera con un corner informativo. Saremo presenti con uno stand nel quale mostrare le attività che vengono fatte nel contrasto alla contraffazione, la sicurezza dei prodotti e la tutela dei Made in Italy di cui il vino rappresenta una delle punte di diamante.